Ciao a tutti e bentornati a Gioca con me, giochi per bambini. Innanzitutto vi chiedo subito scusa per la voce, ma sono un po' malata, quindi purtroppo questo è il massimo che riesco a fare. In ogni caso, qui ho un nuovo gioco per voi della Ravensburger, si chiama Flotti Carotti, molto carino, ovviamente è Flotti la carota, per i bimbi dai 4 agli 8 anni. Si può giocare fino a 6 giocatori, ovviamente da 2 a 6 giocatori. È un gioco molto carino, molto divertente, simpatico e soprattutto anche interattivo e musicale, proprio perché c'è anche da ballare, da scatenarsi insomma con la musica di questo Flotti Carotti. Ricorda un po' Lotti Carotti, che probabilmente un po' di tempo fa avevamo presentato, ma diciamo che ovviamente si tratta sempre di una carota, una carotina. Ma il gioco è leggermente diverso, dura massimo 15 minuti, quindi in realtà è molto 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 veloce, si possono fare tante partite. Quindi io direi di aprirlo e guardare subito tutti gli amichetti di Flotti che troviamo. Infatti qui vedete che abbiamo subito le carte, che sono queste qui più grosse, dove abbiamo delle fragole, una mela. Poi abbiamo cipolle, verdure, pomodori, vedete qui in basso abbiamo tutte le carotine che dobbiamo conservare, perché lo scopo principale del gioco è quello di accumulare il più carote possibili. Ovviamente il giocatore che ne accumula di più alla fine vince. Bisogna raccogliere tutte le carte, qui ce ne sono altre, vedete sono abbastanza, rappresentano tutti i frutti, tutte le verdure e ognuno presumibilmente avrà un nome, ma dopo questo lo guardiamo nelle istruzioni. Ok, guardate questa fuffalla bellissima, l'ombrichino e ancora le carotine. Ok, ora è tutto pronto, mettiamo un attimo a posto e leggiamo le istruzioni, molto importante. Ovviamente qui abbiamo la parte centrale del gioco, dove viene inserita Flotti e dove vengono inserite le carte di ogni giocatore. Le pile sono già incluse, eccola qua la nostra Flotti, la nostra protagonista. Ok. E leggiamo appunto le istruzioni. Allora, come vedete questi sono tutti gli amichetti di Flotti, che hanno un nome e rappresentano appunto un frutto o una verdura. Quindi c'è Bruno, broccoli, poi abbiamo Eva, la fragola, Anton, la mela, Pola, il peperone, Tina, il pomodoro, Simone, l'insalata, insomma davvero tantissime cose. E molto molto divertenti anche tutti i nomignoli. Ovviamente cosa si deve fare? Non appena si stoppa la musica, Flotti nominerà uno dei suoi amichetti, quindi per esempio Tina il pomodoro. E noi attraverso le carte che avremo coperto sul tavolo dovremo cercare nel minor tempo possibile l'amico di Flotti che ha nominato e rispondere come con diciamo un sì l'ho trovato, premendo lo stesso pulsante con cui abbiamo attivato Flotti. In questo modo riceveremo una carota, quindi faremo scorta di carote e andremo avanti. Ovviamente bisogna, come vi dicevo prima, stare nel tempo indicato, altrimenti Flotti spara in aria, si spara in aria e non dobbiamo riuscire a riprenderla al volo. Quindi proviamo subito a vedere com'è questo gioco. Ovviamente voi non sentirete ma c'è una musichetta molto carina. Vedete qui sul tavolo abbiamo le carte coperte di tutti gli amichetti di Flotti. Molto carina questa musichetta, molto molto allegra. E poi Flotti ci nomina un suo amichetto, che lo dobbiamo cercare nel minor tempo possibile, altrimenti perdiamo. Allora, ci ha nominato il funghetto. Cerchiamo, cerchiamo, uh, siamo già in ritardo. Dov'è, dov'è, dov'è? Eccolo! Il funghetto, quindi rispondiamo premendo il pulsante, prendiamo una carotina. E poi Flotti decide di spararsi in aria e metterci alla prova. Riusciremo a prenderla? Sì, presa! Premiamo sul bottoncino e passiamo al turno successivo. Si passa al giocatore, al prossimo giocatore, che dovrà anche lui trovare l'amico di Flotti, che appunto nominerà. Il giochino è molto divertente. Ehm, come vi dicevo, si può giocare da due a sei giocatori. Sono carini anche i protagonisti, vedete qui davanti alle carotine abbiamo i personaggi, che potete scegliere appunto. Eccola qua, per esempio, questa è il nostro lampone, l'abbiamo trovato. Quindi il nostro giocatore, due, prenderà la carotina e dovrà prendere Flotti al volo. Bam! Ecco qua. Perfetto. Insomma, avete capito come funziona Flotti Carotti, che vola nell'aria. Io spero che il video vi sia piaciuto, in tal caso lasciatemi un like, lasciatemi qualche commento. Ho visto che durante le vacanze ci avete iscritto in tantissimi, spero che abbiate passato per le vacanze fantastiche, anche una buona Befana. Siamo pronti a ricominciare anche con la scuola, quindi. E saluto tutti quanti quelli che mi hanno chiesto di salutarli. Un bacione a tutti!